Gigi a tutti ragazzi, sono Elien e quest'oggi in via del tutto straordinaria vi anticipo il Bungie Weekly Update che è stato pubblicato ieri in vista del Thanksgiving, cosa che ha, come dire, cambiato i piani di Bungie in via del tutto speciale. Come al solito il link del Weekly Update è in descrizione. Non c'è moltissimo da dire in realtà in questo Weekly, a parte, beh, vi ricordate di quando Bungie ci parlò delle sfide da completare all'interno dell'incursione e la caduta di un re? Bene, pare proprio che queste sfide dovrebbero arrivare i primi di dicembre, anche se non è chiaro proprio quando, di preciso. Di sicuro dovremmo avere più dettagli la prossima settimana. Comunque, ricapitolando, queste sfide altro non sono che degli obiettivi, ovvero cercare di battere un determinato boss del raid in una certa maniera. Il lead raid designer di Bungie, Gavin Irby, ci spiega che ci sarà una sfida che cambierà ogni settimana all'interno delle incursioni, appunto. Le sfide saranno disponibili sia per la modalità difficile che per quella normale e naturalmente ci daranno delle ricompense. L'unico piccolo dettaglino che ci viene dato è che il buon Gavin si scusa in anticipo con coloro che finora hanno ucciso Golgoroth con la tecnica della singola pozza. Bene, quindi direi che per quelli che non hanno mai provato a battere Golgoroth nella maniera standard, in descrizione c'è il mio video che spiega esattamente nel dettaglio come fare con la tecnica della multipozza. Dobbiamo quindi immaginare che una di queste sfide richieda di uccidere Golgoroth utilizzando tutte e sei le pozze? Beh, chissà, vedremo. Derek Carroll, lead designer del PvP di Bungie, ci spiega che nelle prove di Osiride può capitare che lo spawn iniziare nella mappa può influenzare l'andamento della partita. Nel senso, e non si scopre di certo l'acqua calda, che quando si approda in una mappa può capitare di nascere nel punto meno favorevole, quindi svantaggiati. Nelle ultime prove, svolte appunto sulla mappa Terre di Ruggine, invece c'è stata quasi una parità. Dunque, a giudicare dalle mere statistiche, almeno in Terre di Ruggine, non sembra esserci stato un punto necessariamente sfavorevole, appunto parlando di spawn iniziale. Quindi, nascere nella squadra alfa o bravo comunque non cambiava troppo le cose. Derek ci fa anche un'analisi, sempre statistica, del rapporto uccisioni-morti, il famoso KD, nell'ultimo standard di ferro. Dal grafico si può notare che il ratio sale, tanto più il livello di luce è alto. In pratica, un messaggio velato per ricordarci che tanto più alto il livello di luce, tanto sarà più facile giocare nello standard. Lo stesso standard ci annuncia, tornerà a dicembre e calcolando una media, Bungie ci consiglia di avere un livello luce minimo di 303, per essere competitivi davvero. Ci sono poi dei chiarimenti sul famoso programma Porta un Amico. Bungie chiarisce ancora meglio il concetto di recluta. La recluta è quel giocatore di Destiny che o non ha il Re dei Corrotti, oppure che ha giocato al Re dei Corrotti da 7 giorni o meno e deve aver scaricato la patch 2.0.2. Il veterano è invece quel giocatore che gioca al Re dei Corrotti da più di 7 giorni. Attenzione qui. Le funzionalità di condivisione del gioco non sono supportate. Significa che in teoria, se magari io posseggo il Re dei Corrotti, mi faccio un altro account sulla mia Play e faccio la condivisione con il mio nuovo account, non diventerò recluta. Perché chi ha acquistato il Re dei Corrotti è il mio account principale, non quello secondario dove ho fatto la condivisione. Nella condivisione solo uno acquista, l'altro no. E l'iniziativa vede proprio questo. È stato acquistato il Re dei Corrotti da quell'account? Sì. Si è giocato da meno di 7 giorni? Ok, allora si è recluta. Non si è acquistato il Re dei Corrotti? Non si è reclute. Oppure avete acquistato il Re dei Corrotti e ci avete giocato da più di 7 giorni? Siete veterani. Quindi il sistema funziona così. Vi segnalo comunque la pagina del supporto di Bungie che spiega nel dettaglio tutte queste cose. E in italiano, quindi se qualcuno di voi ha ancora dei dubbi su come funziona l'iniziativa, vi basta guardare la pagina in descrizione. Ultima cosetta. Bungie parla di sconti eventuali per DLC e Destiny in generale per il Black Friday. Quindi consiglio di non comprare niente per il momento e di aspettare quindi domani, e dunque venerdì, e vedere se magari appare qualche sconto su PlayStation Store, sullo store di Xbox, oppure sullo stesso Bungie Store. Anche se c'è da dire che tra Amazon e Compagnia Bella arrivano sconti ovunque. Quindi per quelli di voi che magari vogliono acquistare il Re dei Corrotti, io consiglio di aspettare almeno domani. Bene, direi che questo è quanto per il Weekly Update. Domani chiaramente arriverà come asciutto Zurma in forma ridotta, classica, cioè solo analisi di ciò che vende e saluti. Grazie per essere stati in mia compagnia, Alien, vi saluta, love and peace.